Ciao my darling, dopo 200 milioni di anni, questo è un nuovo video sulle apps Se siamo collegati anche su Instagram sai già cosa è successo ai miei capelli In realtà, col fatto che ero un po' che non ho i capelli colorati, sono stata un po' cagasotto Quindi a breve si aggiungeranno, io credo, molte più strisce colorate Dovrebbero essere viola, blu e azzurro Diciamo che almeno è un buon inizio Or dunque, vado subito a consigliarti le apps che ultimamente io uso di più Una è ovviamente Giphy Si pronuncia Giphy, whatevs Io non mi sono ancora decisa quale sia la pronuncia giusta Ovviamente è un motore di ricerca per GIF o GIF che siano Ormai la comunicazione senza GIF non ha senso, no? Io sono la prima, specie sul gruppo di Telegram, a usare 200 milioni di GIF Quindi questo è veramente molto utile invece di dover andare dentro il browser a cercare, non so GIF buonanotte o cose vaghe di questo genere Un gioco con cui ultimamente mi sto divertendo tantissimo è Alphabare È un giochino con le lettere, un puzzle Ma quello che lo rende vincente sono i suoni degli orsacchiotti In questo caso un po' invadenti Tra l'altro questo non aiuta quando hai le manie di completezza perché si tratta di collezionare degli orsi Gli orsi fanno tutti cose diverse Adesso vediamo se riesco a trovare un livello decente per cui non faccio veramente cagare Allora prender l'unicorno Il gufo E il vampiro Tutti quanti hanno delle capacità diverse quindi dovresti selezionarle con un minimo di logica che non sia solo l'estetica come ho fatto io Sheen Più la mattonella va verso il rosso più è vicina a diventare un sasso Quando hai un sasso non la puoi più muovere Ovviamente lo scopo è avere il meno mattonelle possibili trasformate in sassi Ecco poi ogni tanto fischiettano Hai visto questo che fischiettava? Yes Non so se mi è mai successo Un ghost bear Oddio come sei carino Ok tutto questo era alfa bear è carino da matti Poi mi diverto anche con panda pop Panda pop è uno di quelli alla puzzle bubble Ecco ovviamente è aperto Perché sono drogata pesa di questo giochino Mamma panda deve liberare i mini panda E a ogni mondo Ogni mondo è fatto di 10 livelli Ci sono delle sfere con poteri magici Di solito sono negativi per te che giochi In questo caso vedi io le sfere di fumo Che danno molto fastidio perché non vedi cosa c'è dietro Ti dà enormi sensi di colpa Quando fallisci Cosa che io sto certamente per fare Vabbè però mi dai anche le palle di colori sbagliati Ecco guarda adesso che perdiamo No io soffro moltissimo quando mamma panda fa così Se riesci a tollerare il senso di colpa che ti dà il giochino è molto divertente È uno di quelli Adesso a parte ora che c'è una specie di happy hour Per cui ho le vite infinite per 24 ore È uno di quelli In cui hai 5 vite E poi basta E soltanto pagando Volendo ne potresti avere ancora Però visto che io non ho nessuna intenzione di pagare per giochi di questo genere Questo mi permette di avere un limite temporale di vita digerita e sputtata via da questo giochino Ci sono altri due puzzle con cui mi perdo via moltissimo Uno è Beyond 14 Non è esattamente come era quello all'epoca Cos'era 2000 2048 Però più o meno Dunque all'inizio il meccanismo con cui si mettono giù le mattonelle Ti sembrerà assolutamente illogico In realtà si impara molto in fretta E quantomeno all'inizio A me è stato molto facile andare oltre i 14 come da titolo Poi non sono mai più riuscita a replicare il traguardo raggiunto È divertente, è veloce È uno di quelli che puoi fare quando sei in corda da qualche parte Senza rischiare di perdere il tuo turno Perché lo blocchi al volo Quando tocca a te e basta Esattamente della stessa categoria c'è Puzzle 10 Secondo me Puzzle 10 è ancora più divertente Ah, all'inizio si devi riuscire a Ho perso completamente di vista Dove possano essere i premi più grandi Facciamo qua Yes! Forse dovrei trovare una versione più lusinghiera della realtà La verità è che ho una manche in corso Con un punteggio allucinante Quindi non me la sento di farne partire una nuova È pur vero che in questo giochino Spesso arrivi nella situazione in cui non hai più mosse da fare Ci sono un toto di opzioni quando questo succeda però Quando non hai più bonus che ti fanno sbloccare la situazione Puoi usare le monetine che generosamente guadagni durante il gioco E questo di solito ti risolve le situazioni più spinose È sempre nella mia cartella che ho così fantasiosamente battezzato Puzzles Bondo Bondo secondo me ha un nome bellissimo Perché è una parola buffa da dire Bondo, no? Ok, questo è bellissimo Hai queste mattonelle che non sono sempre doppie E che si sommano Anche qui all'inizio sembra in modo senza senso Ma un senso ovviamente ce l'ha E è uno di quei meccanismi che fai i tuoi molto velocemente Il punto è che tu sommi le mattonelle fino a 6 Quando sommi 3, 6 diventano una B Che sta per bomb Quando metti 3 B insieme fanno esplodere 9 caselle Liberandole Non mi ricordo se ne avessi parlato nello scorso video delle apps Ma è uscito Final Fantasy 7 per iPhone e per iPad In realtà ci sono una marea di bundle Tipo dall'1 al 6 tutti insieme Però quello costa tantissimo qualcosa come 70 euro E devo dire che è molto gustoso averlo con me È un gioco che ho giocato fino alla nausea Credo di poterlo giocare ad occhi chiusi forse dormendo Ma i controlli sull'iPad Ecco non sono come quelli del controller Recolor è un'app per colorare Intesa come attività che ti rilassa No? Ti metti lì a rimuginare A tranquillizzarti eccetera Ora secondo me il potere calmante del colorare Sta proprio nel fare il movimento di colorare Così ecco mi sembra un po' di barare Ecco E certo il risultato è certamente molto migliore Di quello che potrei ottenere colorando a mano Ma a livello mentale ecco certamente non si ottiene Lo stesso risultato se posso dire la mia È primavera no? Quindi tutti quanti stiamo ripulendo i nostri armadi Se da queste pulizie emerge vincitore Con un sacco di cose che non vuoi più Ma che non vale la pena buttare Perché magari sono ancora decenti Ho trovato due app che ti permettono di fare baratto E le ho già usate un sacco di volte Let go ho soltanto comprato Mentre su Spock ho anche venduto Funzionano esattamente nello stesso modo Fai la foto direttamente nell'app Decidi il prezzo a cui mettere l'articolo che vuoi Ti contatta la gente interessata Quello che funziona secondo me È che è geolocalizzato Quindi le prime cose che vedi in vendita Sono quelle che sono fisicamente vicino a te Occhio perché ho due app utili Allora una è l'app di YouNow Dico che è utile perché io faccio le live su YouNow E mi è capitato di assistere a delle live su YouNow Guardare una live su un device portatile Che sia il cellulare o l'iPad Non è chiaramente comodo quanto su un computer Perché la chat va in sovraimpressione al video Però se non altro è fattibile Se per caso non sei al computer Quando c'è una live che ti interessa Tipo per esempio una live il mercoledì sera Dalle 9 alle 10 Ecco l'app di YouNow è affidabile È stabile e a me non ha mai dato problemi E l'altra app che recentemente mi ha salvato la vita Sono allibita È l'app di poste mobile Cioè puoi prenotare quando arrivi alla posta Sarà che per me è molto comodo Specie quando vado in posta a spedire tutte le letterine Ci vado almeno una volta a settimana Allora o hai un bellissimo libro O hai un bellissimo audiobook Insomma hai qualcosa che ti faccia tollerare l'idea Di passare alla posta qualcosa come Non so un'ora e mezza, due No sto un po' drammatizzando Però può capitare di aspettare un sacco di tempo No? In coda Ecco in questo caso se hai un minimo di possibilità di pianificazione Tipo sai che domattina devi andare in posta Verso che ora ci vuoi andare? Verso le 11 e ti prenoti il tuo turno Ha un'altra marea di funzionalità Che io però non ho ancora esplorato Ti irrita che la telecamera del tuo cellulare Non faccia che migliorare di versione in versione? Non c'è problema Perché puoi scaricare VHS Camcorder Quest'app è un capolavoro No vabbè ma quest'app è stupenda L'unico vero difetto di quest'app secondo me È che non puoi importare un filmato dentro l'app Quindi trattandola come se fosse solo un effetto o un filtro Devi effettivamente registrare direttamente così Però io lo trovo troppo divertente Non chiedermi perché scelgo solo adesso di passare a questa inquadratura molto più efficace Pensavo di usare l'iPad un po' di più Solo che ormai Obama è vecchietta E quindi qualsiasi cosa su Obama ci mette 600 anni a caricare Obama è il nome della mia iPad Quanto cose grafiche c'è un'altra app che ti consiglio che si chiama Patternator L'ho usata per esempio per fare la copertina del video su Tumblr E' semplicemente questo Tu selezioni uno sticker Io sceglierò per esempio questa bella nuvoletta E poi puoi cambiare tutto il modo in cui è incastrata appunto in un pattern Puoi scegliere di che colore sia lo sfondo E lo puoi esportare Naturalmente se lo vuoi esportare in HD è a pagamento Cosa a cui io non ho nessuna intenzione di cedere Gli sticker sono parecchi e sono proprio molto carini Guarda questo Adoro Patternator E' ovvio tutti quanti amiamo e siamo schiavi in una certa misura dei filtri di Instagram Però io ho iniziato ad amare Line Camera Line Camera ti permette Vediamo una foto decente Beh prenderò questa che mi sono fatta l'altro giorno quando c'era questo filtro qua di Snapchat I filtri di Line Camera secondo me sono i più belli di tutti Soprattutto per via di queste diverse gradazioni di colore Vedi questi sono rossi, questi sono un po' sull'arancione Che non significa che il filtro stesso utilizzi direttamente quel colore Però magari come wash dell'immagine Come risultato sì È comodissimo, è comodissimo per esportare i risultati delle tue fatiche Cosa che in questo caso io non farò Sì, usciamo E volendo poi aggiungerci sopra gli sticker e le scrittine Anche questo è un po' kawaii e bellissimo Mi hai sentito nominare Snapchat perché recentemente ho ceduto a Snapchat Salvo poi non essere molto in grado di usarla Credevo che il problema con Snapchat sarebbe stata l'impermanenza del contenuto No, no, no È che non riesco a trovare o quantomeno trovo molto raramente contenuto che valga la pena mettere su Snapchat Però ovviamente adoro guardare gli Snapchat degli altri, punto primo E vedere quelli che mi mandi Tant'è che ogni volta che mi aggiungi io ti controaggiungo Perché così siamo tutti in un'unica rete È molto carino e il mio nick è Fred Frez Non ti aspettare i capolavori perché proprio no Certamente ci ho messo un po' Ma ho imparato a usare i filtri per i selfie di Snapchat Wow, this is weird Poi oggi cosa abbiamo? Beh, mettiamo quello dove si è belli Se come me sai dell'idea che questo sia l'elemento cruciale di Snapchat Ti consiglio anche quello che almeno io chiamo Masquerade Credo che si chiami Masquerade Allora, aspetta che questo veramente non so come fartelo vedere Allora, i filtri non hanno il ricambio veloce che hanno su Snapchat Però guarda la bellezza di questo E poi volendo puoi essere anche Daredevil, aspetta E poi ci sono ancora, sì Batman Superman E Superman Infine, se come me segui un sacco di canali di fai da te Nell'illusione di riuscire anche tu un giorno a realizzare con gli stessi oggetti Potresti aver già sentito parlare di Bounty Bugs Io ne ho sentito parlare da Makaroon Che è una ragazza carinissima E che ha un codice con cui puoi utilizzare quest'app E ti metto il link al video in cui lo spiega Allora, secondo me lo scopo di quest'app ha un senso Ma raggiungere questo scopo è praticamente impossibile Dunque, il punto è scaricare delle app E fare quello che ti viene detto di fare Tipo, facciamo i Dreams Per ottenere i crediti che sono segnati qua di fianco Devi soltanto scaricare l'app e farla partire I premi sono titanici Solo che arrivare a 1700 crediti per avere 2 euro di sconto su Amazon Ti ripeto, è un'impresa titanica Io ho fatto l'impossibile secondo me E ne ho 574 Peraltro le montagne di crediti Quelli che fanno veramente la differenza Tipo 15.000 crediti in una volta Te li danno per app che non vuoi installare Tipo quelle per il gioco d'azzardo Anche perché non si tratta solo di installare l'app Ma di fare un versamento tipo di 5-10 euro Allora fammi capire Perché devo fare un versamento di 10 euro Per ottenere 2 euro di sconto su Amazon? Cioè, teoricamente uno dovrebbe pensare Vabbè, se è qualcosa che uso già Ma no! Perché se nei compiti da fare C'è qualcosa che hai già nel telefono Non c'è verso di ottenere i crediti C'era qualche giorno fa un'app Un solitario secondo me Che io avevo già Anche se l'ho disinstallato e reinstallato L'app non lo vedeva come effettivamente Task ottenuto E quindi non ho mai avuto quei crediti lì Allora, forse qualcosa si riesce a ottenere Adesso fammi sapere se tu sei più costante Se riesci a fare un po' di più Non ci sono peraltro solo sconti su Amazon Ma anche sconti su iTunes Per Minecraft Guarda qua, l'Xbox Su Steam E ovviamente League of Legends Ecco, my darling Queste sono le app Che ultimamente mi fanno perdere più tempo Sicuramente quella più grave Per quanto mi riguarda è Panda Pop Se vuoi giocare insieme Il mio nome su Game Center È Tardis Blue 310 Anche se vuoi sfidarmi alle cose È un ottimo modo per scoprire giochi nuove Ricevere una sfida Ecco, non esitare No, che nostalgia Ho la mappa della Metro di Tokyo Che mi ha salvato la vita infinite volte Se ti capita di andare a Tokyo Per carità Scarica l'app della Metro Fammi sapere quali sono le app con cui ti diverti di più ultimamente O quelle che hai trovato più utili Magari quelle con cui riesci a ricordarti di bere a intervalli regolari Perché sì, io sono un umano molto ben funzionante e mi dimentico di bere Quali sono i giochi più evocativi che hai trovato ultimamente Mentre siamo tutti in attesa di nuovi livelli di Monument Valley Mi prendo la responsabilità di tutto il tempo Che specialmente i puzzle di cui ti ho parlato Ti faranno perdere Ok, aspetto i tuoi suggerimenti Per perdere tempo in modo sempre nuovo E se ti va ci vediamo al prossimo video Ciao